Introdurre in Lombardia il reddito minimo garantito è la proposta lanciata oggi da Don Roberto D'Avanzo, direttore di Caritas Ambrosiana, nell'ambito del convegno Zero Poverty, cancellare la povertà è una sfida per l'Europa. Don D'Avanzo ha sottolineato l'opportunità di questo strumento di protezione sociale presente in tutti i paesi dell'Europa 15, con l'eccezione della Grecia e dell'Italia. Il 2010, ha aggiunto il direttore della Caritas milanese, può essere l'occasione per ripensare il welfare in Italia.